La pace sia con voi, figli miei. Io, vostra madre, vengo dal cielo per accogliervi nel mio cuore materno. Io desidero concedervi la mia protezione materna. Rifugiatevi sotto il mio manto protettore. Qui voi starete protetti contro ogni male. Non abbiate paura. Dio è l'Onipotente. Davanti al suo potere, davanti alla sua presenza, tutto deve essere sottomesso a Lui. Lui c'è tutto nelle sue mani. Abbiate fiducia in Dio. Abbiate fiducia nel mio cuore di materno. Lì il mondo si trova lontano da Dio e merita, a causa del loro peccato, un grande castigo. Molti non credono più nella presenza di mio divino figlio. Nell'Eucaristia. E non penso non più nella sua dolorosa passione. Poca importanza si dona i sacramenti. E tanti ministri del Signore non li sono più servo fedeli. pregati, pregati, pregati. Senza fede e preghiera il mondo non può appartenere e camminare verso Dio. Luttate per la vostra salvezza e salvezza dei vostri fratelli. Io sono qui davanti a voi per essere la vostra intercessora davanti a mio figlio divino. Grazie per la vostra presenza. Tornate alle vostre case con la pace di Dio. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Filo. Dello Spirito Santo. Amén. Dello Spirito Santo. Dello Spirito Santo.